Stefano Terfani, Systems Engineer, HPE Aruba Quali sono le evoluzioni tecnologiche e architetturali nel mondo delle reti wireless LAN? Il mondo delle reti wireless LAN è in continua evoluzione in termini di ratifica di nuovi standard. IEEE ratificherà a breve lo standard 811 AX che opererà su entrambe le bande ASM a 2,4 e 5 GHz il cui scopo principale è quello di aumentare il throughput in reti densamente popolate dei client Wi-Fi. Questo attraverso tecnologie quali OFDMA, Spatial Reuse dei Canali e Multi User MIMO in entrambe le direzioni. Sul fronte della sicurezza Wi-Fi Alliance è in via di ratifica dello standard WPA3, evoluzione del WPA2 che permetterà in modo dinamico e trasparente all'utenza metodologie di encryption su reti Wi-Fi cosiddette aperte, tipicamente quelle GEST. Tutte queste tecnologie saranno notevolmente trasparenti per quanto riguarda l'esperienza utente. Aruba rilascerà hardware e relativo software per implementare questi nuovi standard. Quale ruolo possono giocare applicazioni basate sul cloud, sulle reti di accesso mobili di impresa? La presenza ubiqua del cloud, la sua enorme potenza computazionale e capacità di immagazzinamento dei dati permette l'implementazione di applicazioni dedicate alla gestione dell'accesso alle reti wireless di impresa. In questa ottica si pone Aruba Central, in grado di gestire in toto le applicazioni e le piattaforme di accesso alla rete in termini di Instant Access Point e Aruba Switch, permettendo gestione completa in modalità Zero Touch, reportistica, presence analytics e captive portal avanzati. L'ultima funzionalità nata all'interno di Aruba Central è la gestione della soluzione SD-WAN di Aruba. Central rappresenta il mattone fondamentale per la gestione software defined delle reti di accesso. Grazie. Grazie.